Bene, bene. Qual è la data di oggi? Qual è la data di oggi? Sì, perché è? Oggi è il luna di 31 ottobre. Che giorno è oggi ragazzi? Ho paura. Oggi è? Halloween, mamma mia che paura. Hai paura degli zombie? Sì, sì. Sì? Paura si dice scared. Sì, bravo Daniele. Hai paura degli zombie? Sì. Sì, hai paura dei vampiri? Sì. Sì? Tu hai paura dei vampiri? No, no, no. Hai paura degli zombie come Minecraft zombie? Lo so. Sì, uno zombie verde. Benissimo ragazzi, in Italia c'è dolcetto, 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 o scherzetto. Cos'è uno scherzetto? Dolcetto? Sì, io ho paura degli scherzetti. Dolcetti sono buoni, vero? Vuoi il dolcetto? Luca? No? Sara vuoi? Sì? Freddi? Te lo passiamo via. Passiamo via. Adesso ragazzi, cosa fate stasera per anni? Cosa fate? Va a una testa. Bravissimo, Livia. Livia va a una testa, poi? Studi. Stefania. Stefania ha gli esami. Studi. Benissimo. Adesso, chi ha una maschera, un costume? Chi ha un costume? Tu no, Livia, non un costume? L'amica Martina Daniele ha il costume? Sì. Come? Chi sei? Un maurietto di Aysad e sono Ken Byrne. Oh! Bravi. Fai una foto e poi la fai vedere alla classe. Qualcun'altro? Avete un costume? Tu prendi un costume? Vogliere un costume? No? Mine. Mine. Vai a vedere. Careful. I got it. Ah, bellissimo. Bello. Ah, è il mio, molto bello. Qualcun'altro ci sarà? Non c'è? Nessuno tolernando? No? Come si dice? Stairer? Ah, da pescatore? Qualcun tipo, oppure chi ha una bacca? Che ha una bacca? Benissimo. Benissimo, ragazzi. Allora, fate le foto e poi mostrate alla classe. Va bene? Sì? Sì. Quindi, conoscete questo personaggio? Sì? Chi è? Frankenstein. Benissimo. E questo in italiano si chiama zucca. Zucca. Di che colore è la zucca? Arancione. Arancione. Benissimo, arancione. E questo è un vampiro. Questo è franzo. E questo è un clown. Si chiama zucca. Sì. È un paura del clown. Sì. È una zucca. E questi sono i pipistrelli. Bravo, Daniele. Pipistrelli. E questo non mi ricordo, ti penso. It was like in, probably like, 19 millioni of the chance that they want to know of it. Bravo, che segno è la data. Adesso ci penso e poi vediamo. Sì, i pipistrelli. Bravo. Bene. Oggi, ragazzi, iniziamo il capitolo. Che numero? Capitolo? Sei. Sei. Qual è il titolo del capitolo? La famiglia. E qual è la regione del capitolo? Friuli, Venezia e Giulia. È al nord, al centro o al sud? Italia. Nord Italia. Visto, dovete molto al nord, vero? Nord est o nord ovest? Nord ovest. Benissimo. È la città più importante, Trieste. Vicino alla Croazia, va bene? Trieste, se lo vediamo. Ok? Adesso, ragazzi, in questo capitolo parliamo della famiglia. La famiglia è molto importante per gli italiani. Questa è una foto di una famiglia dell'inizio del secolo, una foto antica. vero, ragazzi? E guardate un po'. Secondo voi, chi è questa? Chi è? È la? Madre. Madre. Benissimo. Mamma. Sussi, benissimo. Lui è il? Madre. Madre. Benissimo. No, loro sono i? I bambini. I bambini. I figli. È una famiglia grande. È una famiglia piccola. Mamma. 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 Tu hai una famiglia grande, Stefania? Sì. Quanti? Quanti fratelli hai? O sorelle? Cinque. Ho una famiglia grande, Stefania. Tu Marco, una famiglia grande o piccola? Grande. Grande. Quanti fratelli o sorelle? Cinque. Cinque, come se fanno. Chi ha una famiglia piccola? Piccola. Tu, Daniele, quanti fratelli? Un fratello. Un fratello. Daniele è un fratello. Come si chiama il tuo fratello? Sean. Ah. Is that Matteo? Non c'è Sean. Non è Matteo, però Matteo. C'è un giovane Matteo. I know they used to call him Matteo, because I've always thought I was Sean, so... No, Matteo e Matteo, Sean, non mi dite. Adesso, ragazzi, guardate. Dovete indovinare chi sono i che fai che. Indovinate. Va bene? Allora, guardate. Chi è questa bambina? Eh? La figlia. La figlia. Mia figlia. Benissimo. Chi è questo, signore? Il marito. Il mio marito. Benissimo. Mio marito si chiama... Mia figlia si chiama Marisa, come mia mamma. Ok? Chi è questa, signora? Chi è questa? Mia madre. Mia madre si chiama Marisa. Chi è questa... Vediamo un po'. Secondo voi, chi è questa ragazza? La sorella. Bravissimo. Mia sorella. Chi è questo, signore? Ah, attenzione. Il mio pugnato si chiama Fabio. Mia sorella si chiama Giuditta. Non è buona. Giuditta. Secondo voi, chi sono questi due bambini? Buonissimo. I miei nipoti. Si chiamano Marisa e Filippo. I miei nipoti, sì. Adesso, buon parte, ragazzi. Secondo voi, chi è questa ragazza? No, è il pugnato. Fratello. Si somigliamo? Filippo è un fratello. Si chiama Francesco. E lei che è? La cognata. Bravissimo, Marco. Si chiama Benedetta, mia cognata. Questa ragazza chi è? No, sorella. Una sorella e un fratello. Una cugina. Una cugina. Si chiama Francesca. 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 E lei è mia mamma. Mia mamma si chiama Marisa. Mia figlia si chiama Marisa. Marisa, Marisa. Perché ragazzi, in Italia, i figli, i nipoti hanno il nome della nonna, delle volte. Ok. Guardate ragazzi, ancora altre foto. Qui siamo a Firenze e lei è mia figlia. E quindi, tua figlia. Ok, tua figlia. E, scusate. Lui è? Tu, nipote. Mio nipote. Guardate ragazzi. Mio? Fratello. Fratello. Mia? Cognata. Mio nipote. Mio nipote. Bravissimi ragazzi. Mio nipote mangia gli arrosticini. Mangia. Mangia molto. Mangia molto. Grazie. Adesso ragazzi. Loro, chi sono rispetto a mia mamma? Perché qui tra l'arte. Bravissima. Quindi nipote e nipote. Abbiamo una parola. Per due parole in inglese. Adesso ragazzi. Lei è mia? Cugina. Cugina. No, ragazzi. Adesso ragazzi. Guardate. È una famiglia. Io ho una famiglia piccola. È una famiglia piccola. Un fratello. Una sorella. Invece questi sono i miei... La famiglia di mio marito. Come si dice in inglese? La famiglia di mio marito. In rose. In Italia non c'è una parola per in rose. La famiglia di mio marito. Ok, ragazzi. Adesso guardate. Cercate di indovinare. Chi è questa? Mia? Madre. Mia? Suocera. Perché questi sono gli indossi. Mia suocera. Non madre, ma suocera. E' benissimo. Lui è mio? Suocera. Bravissimo, Daniele. Lei è mia? Cognata. 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 Cognato. Marito. Poi? Cugina. Cognato. Ok, questi sono ragazzi tutti... Cognata. Sì, quindi sono tutti i miei... nipoti, ma lei è mia? Bellissima, ragazzi. Avete capito? Sì? Ok. Quindi, miei nipoti, i loro nipoti. Ok? Una parola. Sì, ragazzi. E' facile o è difficile? Facile. Non lavorare. Facile. Benissimo. Adesso, guardate, ragazzi. Queste sono tutte le parole del capitolo, i vocaboli. Il problema, ragazzi, le abbiamo praticate abbastanza, vero? Qualche parola no, ma non fa niente. Adesso, il mio ragazzo e la mia ragazza, sapete che significa? Se vi dico, Lorenzo, Leonardo, hai una ragazza? Come si chiama la tua ragazza? Non è una ragazza. Chi ha una ragazza? Non è una ragazza. Qualcuno? Daniele, come si chiama la tua ragazza? Mary. Quindi, la sua ragazza si chiama Mary la mia ragazza. Va bene, ragazzi? Quindi, è abbastanza facile. E se facciamo questo esercizio. Lo zio è il, quelle cari, indovinate. Lo zio è il di mia madre. Lo zio è il fratello. Bravissimi. La zia è una donna. Lo zio è un uomo. Bravissimi. Numero due. La nonna è la? La madre. La madre. Il mio padre. Sì? È la madre di mio padre. Non la padre. La madre. Sì. Io e il mio fratello siamo i? Dei nostri genitori. Siamo i? Di. Bravissima. Mia madre è la? Di mio padre. La vita. Moglie. 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 La donna, marito, un uomo. Aspetta. Mio suocero è il di mio? Mio suocero è il? Padre. Padre di mio? Marito. Bravissimi, sì. Il marito di mia figlia è mio? Questo non abbiamo contato. Il marito di mia figlia è mio? No. Genero. Genero. Bravissima. Questo è difficile. Come si dice? Genero. Genero. Allora, il marito di mia figlia è... Sì. Sì. Difficile. La cugina è la figlia di mia... 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 Oh, nipote? Zia. Vero? La cugina è la figlia di mia zia. Il figlio di mio figlio è mio... Nipote? Ok, ragazzi, è un po' difficile capire. Sì, viva. So, there's two meanings to nipote. For pluralità, does it change to le nipote? Nipote? I nipoti e le nipoti. Is that for both? Or is it different? No, le nipoti spengono i nipoti maschili. Quindi, sì, l'articolo... Sì. Sì, i nipoti tutti. Maschili, maschili, spengono tutti. No, le nipote, sì. Adesso, ragazzi, vediamo un po', leggiamo. Una famiglia numerosa, pagina 148. Avete letto, ragazzi? Era difficile? 148. Avete letto, ragazzi? Sì? Adesso, vediamo un po', ragazzi. Leggiamo un po'. Bianca e Ornella. Chi vuole fare bianca? Chi vuole fare bianca? Vuole fare bianca? Sarà? Eh, bianca, vuole leggere, sì. Eh, Ornella, Olivia, vuole fare ornella. Eh, è sabato, vuole leggere tu, Sara? Sì. Sì, benissimo. Sì, benissimo. Prego. È sabato e Ornella va a provare il bianca, sì, è argentina, in campagna, va in Berthia e la sua amica va a home. Benissimo, va in Berthia. Tutto chiaro? Capite, ragazzi? Sì? Finita. Andate, via. Quante persone ci sono nella tua famiglia? Mio padre, mia madre, mio fratello, le mie due sorelle e io. Hai una famiglia numerosa? Abbastanza. Come si chiama tuo fratello e quanti anni hai? Marco ha 25 anni e fa l'ultimo anno di medicina all'università di Bologna. È un ragazzo intelligente. I suoi professori hanno un'opinione eccellente. Eccellente. Eccellente di lui. Vuoi conoscere? Vuoi conoscere? Sì, volontieri. Quando? Domani sera. Passiamo a uscire insieme tu con mio fratello e io con il mio ragazzo. Splendido. Splendido, ok? Quindi vuole far conoscere e vuole creare una coppia. Faccio me che. Va bene? Allora, prima domanda, per favore, breggio i piedi e Sara rispondi. Per favore, numero uno. Che giorno è? Che giorno è? Savato. Bravissima, è sabato. Luca, lei ti dà dei rispondi. Con chi va a trovare i piedi con la sua amica bianca? Con chi? Benissimo. Stefania, per favore, poi Marco. Quanti figli ci sono nella formaglia di Onera? Ci sono tre figli. Ci sono quattro figli. Vero? Benissimo. Daniele, leggi, per favore, te lo rispondi. Che è la domanda? Ah, la domanda non ce l'è. Allora, facciamo così. Lo leggi e venire gli sforzi. Numero quattro. Come si chiama il suo fratello? Sua fratella il nome è Marco. Si chiama Marco. Sì, benissimo. Allora, per favore, Riana, con un'altra parte. C'è l'opinione di lui di suoi. 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 Suoi professori. Professori. Suoi professori. Eccelente. Benissimo. Ah, un'opinione eccellente. Ok. Leonardo, legge, Leonardo, risponde. Bianca, molto come si è a Marco. Sì, vorrei conoscere il tuo nome, Sara. Certo, vorrei conoscere Marco. Certo, sì. Andiamo avanti, Leona, per favore, con la Bibbia. Secondo ti, Bianca ha un ragazzo? No, Bianca non ha un ragazzo. Bravissima. No, Bianca non ha un ragazzo perché Bianca cerca un ragazzo. Ok. Sara, con cui è no? Con chi esce il giorno che domani sarà? Eh, Fornella va. 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 Esce il ragazzo. Il suo ragazzo è il tuo fratello. Ok? Per, eh, da modello. Vai, Daniel. Per numero cinque, come si dice i suoi? I suoi. Adesso lo facciamo proprio adesso, Daniele. Perché non ha usato gli professori? Ecco. Perché S con la vocale, i, gli, S più consonante. Gli studenti, gli, però S più vocale, i suoi. Va bene? Adesso questa, e adesso studiamo i, gli aggettivi possessivi, i suoi, suo, mio, tuo fratello, e la ore, in tua eugenia, nel mondo. Adesso, corregiamo però prima gli esercizi a C, pagina 150. Grazie, e poi facciamo aspettare. Quindi, pagina 150. Avete fatto gli esercizi? Sì? Sono facili e difficili? Facili. Allora, chi è? Bredda, per favore. No. Vai. Il fratello del mio padre e il mio zio. Bene. Numero due, Sara. La madre di mia madre e mia donna. Bravissima. Vai avanti Luca, per favore. I nonni hanno un nipote e il loro nipote. Bravissima. Nipoti. Benissimo. Vai avanti Davide. Voi avanti, mio fratello e mia cognata. Bravissimo. Cognata. Voi avanti Stefania. Il fratello non ha un marito e il mio nubile. Nubile. Nubile non ha un marito. Bravissima. Cernile non ha una moglie. Benissimo. Vai avanti Marco. La figlia del mio zio, però è mia cugina. Benissimo. Benissimo. Adesso numero C. Daniele, chiedi e Lorena rispondi. Tu hai fratelli o serrati? Si, un fratello e una serrati. Benissimo. Andiamo, per favore. Quante persone ci sono nella tua famiglia? Sì. Hai una famiglia numerosa. Sì. È molto numerosa. È molto numerosa. È molto numerosa. E quante persone ci sono? Sei. Sei. Benissimo. Leonardo, per favore, con Renato. Come si chiama tuo padre e tua madre? Mio padre si chiama Regi, mia madre si chiama donna. Benissimo. Andiamo avanti, per favore. Leona chiedi e Lorena risponde. Dove abitano i tuoi genitori? Dove abitano i tuoi genitori? I genitori abitano altri genitori. Abitano altri genitori. Benissimo. Sara, legge, per favore. Coglielmo rispondi. Vai, stessi, autobari. Sì. Vivido spesso. Vivido spesso e bene, bene. Vediamo, prendi i piedi e Sara rispondi. Hai molti figgini. Sei. Oh, sei figgini. Benissimo. Adesso ragazzi, prima di farlo ascoltiamo, in coppie facciamo questa attività, ok? Quindi prendo i lavori con Sara, Davide Luca insieme, Sara Fortunie, con i due, Renata e con Leonardo, Penconi con, benissimo, con Arianna, Lorena e con Daniele, e voi due. In coppie descrivete alcuni membri della vostra famiglia, date le informazioni più importanti, nome, età, descrizione fisica, personalità, occupazione, attività preferite, ok? Quindi, ad esempio, quindi parlate, non scrivete, parlate. E qui entro lì le dice Mia mamma, mia madre, si chiama Sara, mia madre ha 50 anni e ha stato intelligente, gioca a tennis, lavora. Bene ragazzi, parlate, io ascolto, ok? Quindi mettete in coppia. Lawrencefield, credo, è signore! Grazie. Bene. 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 centres. Grazie. 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 Allora, ragazzi, ascoltate, chi hai descritto? Tu, Arianna, tua sorella? Di chi hai parlato? Di tuo fratello, tuo padre, tua madre? Di chi avete parlato, ragazzi? Chi vuole dire? Vuole venire alla classe? Vuole venire alla classe? Sì, bravo. Mia madre chiama, lei, è 48, è 1, è seppato, non gioca bene, non è sportiva, non è sportiva. E quindi alta, intelligente, simpatica, bellissimo. La mamma di Olivia si chiama, lei è, sua mamma. Che ragazzi, mia mamma, sua mamma. Ok, adesso ragazzi, quindi praticate a casa, cercate di descrivere la vostra famiglia e mercoledì poi vi descrivete la vostra famiglia. Avete una foto della vostra famiglia? Sì, una foto? Portatela nel cellulare e descrivete la vostra famiglia, mercoledì. Ok, ragazzi? Adesso, a casa degli zii, avete ascoltato lì? Sì, sì, su WhatsApp? Benissimo ragazzi, ascoltiamolo una volta insieme e poi facciamo l'esercizio. Ascoltiamolo una volta, ok? Ciao zia, ciao zio, come state? Noi stiamo bene. Cara Ornella, che piacere. Bianca, ecco ti zii. Zii, vi presento la mia amica Pianca. Molto piacere signorina. Piacere mio. Ornella, come stanno papà e mamma? Stanno bene. Papà lavora molto in ufficio. E la mamma ha molti studenti all'università. Anche età? La zia prepara una papà e la propria posta, chiede? Splendido. La mangiamo molto o non chiediamo? Ok ragazzi, quel controllo di altri extra credit. Adesso, la prima domanda, qual è ragazzi? Vediamo un po'. La prima domanda, numero uno, lei di Stefania. Dove arrivano Ornella e la sua amica Pianca? Dove arrivano, Marco? Alla casa delle zii e zio. Benissimo, alla casa dello zio e della zia. Numero due, per favore, Lorena, leggi. Cosa dice il zio quando Ornella presenta la sua amica? Dice molto piacere. Bravissimo, molto piacere. Adela, leggi. Come stanno i genitori di Ornella? Bene, bravissima. Leona, la legge, le nate rispondi? Dove, Olvora, sua padre? In ufficio, benissimo. Leona, legge, l'oliva rispondi? Cosa prepara la zia? Cosa fa? Qual è la professione di sua madre? Sua madre è la professoressa. Benissimo. Guglielmo, leggi, i genitori rispondi? Cosa prepara la zia? Prepara la zia. La bella forza di la zia. Ecco, ragazzi, guardate. Questa è una torta di? Mene. Questa è la casa in Campania. Bellissimo, perché i zii abitano in una casa in Campania. E il padre? Lavoro in ufficio. E la madre? Lavoro in ufficio. Insegna. Benissimo, ragazzi. Adesso, chi ha la trascensione? La aspettiamo? Adesso, faccio in giro. Allora, Ornella, tu le leggere. L'onore può leggere Ornella? Logio Leonardo. E Bianca Arianna. Che ragazzi? Io firmo le trascensioni. Prego. Ciao zio, ciao zio. Come state? Noi siamo bene. Chiava Ornella. Che piacere. Che piacere. Che piacere. Che piacere. Bianca è con Gizi. Si, mi presento la mia vita a Bianca. Molto piacere, signorina. Piacere mio. Alla zia. Benissimo, la mangiamo molto volentieri. Benissimo, la mangiamo molto volentieri. Avete capito? Tutto è difficile e facile? Facile questo passaggio. Benissimo. Adesso, ragazzi, abbiamo un quarto d'ora per anticipare la grammatica per mercoledì. La grammatica è molto importante, è un punto di grammatica molto importante, perché parliamo degli argentini possessivi. Il mio, la mia bottiglia, il mio computer, i miei occhiali. Ok ragazzi? E gli esercizi sono in CFA, palco da 152 a 153. Ok ragazzi? Adesso. Vediamo un po' ragazzi, iniziamo a vedere. Ci sono tante parole da imparare, ma è facile. Bene ragazzi? Se io dico ad esempio, la mia penna, la mia penna, la mia bottiglia, la mia bottiglia, il mio quaderno, il mio mouse, il mio cellulare, il mio cellulare. Ok ragazzi? Adesso, cosa notate? Cosa è diverso dall'inglese? È diverso dall'inglese possessivo? Notate qualcosa di diverso? Però, se io dico, il mio, in inglese è... Marco è... Marco è... Bene ragazzi? Non ha... We don't change. Bene ragazzi? E' questo è il suo deposesso. In italiano è il tuo sesso. Bene ragazzi? Il suo deposesso è in italiano. Quindi la mia penna, se è finire, la mia penna, la mia bottiglia, femminile, però il mio computer, è maschile, il computer è maschile, è questo deposesso, è come deposesso. Ok ragazzi? Adesso, vediamo se dico, il tuo, il tuo libro, ragazzi, il tuo libro, il tuo libro, il suo libro, ok ragazzi? Il suo libro, la sua penna, la sua penna, capito ragazzi? So la sua, even if you don't apply, we have la sua, perché femminile, dimmi. Com'è la differenza di la sua penna e la tua penna? La tua penna, yours, la tua penna. La sua penna, his. Ok. Va bene ragazzi? Quindi la mia, la tua, la sua, la nostra, la nostra classe, l'italiano, la vostra o il vostro, il vostro il professore, il loro, il loro professore, la loro professoressa. L'hai capito ragazzi? Loro, loro, non cambia. Va bene? Vostra, vostra, sì. Vimmi da chiedere. Usate la sua penna e femminile. Quindi, deposesso e parte, va bene? L'italiano lui è deposesso e il nuovo deposesso, va bene ragazzi? Com'è l'aggettivo. Adesso, ricordate ragazzi, è un po' diverso dall'inglese, vero? L'inglese è diverso, però con la pratica. Va bene ragazzi? Adesso guardate, il mio cane, va bene? Il mio cane. Il suo cane, il suo cane, va bene ragazzi? Quindi, il suo cane, si chiama, non so, Bobby. Il suo cane si chiama Randy. Va bene ragazzi? Quindi, il suo cane, il suo cane. In inglese. Non mi sto a fare. Il suo cane, il suo cane. Ok ragazzi. Adesso, ci dico, di chi è la penna? Di chi è la penna? E' la sua penna. Di chi? Che significa in inglese di chi? Of your. Of your. Devo. Di chi è la penna? Di chi è il cellulare? E' il suo cellulare. Di chi è il libro? Di chi è il suo libro. Il suo libro. Ok ragazzi. Quindi, in italiano, cosa abbiamo che non c'è in inglese? Il suo libro. Non dite il suo libro. No, non dite il mio libro. No, non dite il mio libro. Allora, ragazzi. Di chi sono gli occhiali? Di chi sono gli occhiali? Sono? Le sue. I suoi occhiali. Di chi sono le penne? Sono? Le sue. Le sue penne. Lì. Di chi sono i cioccolatini? Puoi decidere ai occhiali. Sono? I tumori. I tumori. I cioccolatini. Benissimo. Di chi sono le chiavi? Di chi sono le chiavi? Chi sono le chiavi? Chi sono le sue chiavi? Di chi sono i libri? Puoi. Di chi sono quei libri? Sono? Bellissima. Sono i loro libri. Di chi sono le bottiglie d'acqua? Le bottiglie d'acqua sono? Le sono le loro bottiglie d'acqua. Di chi sono i cani? Chi sono i cani? Sono? I loro cani. Di chi è il quaderno? È il suo quaderno. E Brandon tu come dici? It's my book. È? Il mio. Il mio quaderno. Va bene? È la mia bottiglia. È la tua bottiglia. Ok ragazzi? È abbastanza facile. Sì? Adesso questo è molto importante ragazzi. Molto molto importante. Quando parlo di membri della famiglia, mia mamma, mio padre, mio marito, non c'è l'articolo. E come in inglese, mia mamma si chiama Marisa, sua sorella si chiama Laura, nostro fratello è alto. Va bene ragazzi? Però abbiamo bisogno dell'articolo di fronte ai nomi plurali. la loro sorella o i miei cugini, i miei cugini, i miei fratelli e loro sempre l'articolo. Ok ragazzi? Facile, difficile. Bisogna praticare molto, molto, molto. Ok? Adesso facciamo questo esercizio ragazzi, abbiamo finito. C'è l'ultimo esercizio. Adesso inizia Brandon per favore. Lo zaino che mi chiede. E? E. E. Il? Sino. Zaino, bravissimo, molto bene, eccellente. Sara, i compiti? I compiti sono di Elvito e di Mara. Sono il loro compiti? Bravissima Sara, sono i loro compiti. Bravissima Sara. Luca prova. Chiara è la sorella di Elvito? È? È sua sorella. Bravissimo, bravissimo. È sua sorella. Va bene? Sua sorella. Anche se in inglese esiste, in italiano sua, perché sorella è femminile. Bravissima. Va per favore, Dario. Noi abbiamo due cugini, Enrico e Chiara. Sono? I due. I nostri. I nostri. Sì? Andiamo avanti Sara, per favore. Avetevi fuori voi? Sì. Bravissima. I nostri nipoti si chiamano Daniela e Simona, vero? Guglielmo, io sono fidanzata. Ma i vostri, come si dice in italiano? Il mio ragazzo si chiama Lorenzo. E tu, Lila, sei fidanzata? Come si chiama? Il tuo ragazzo si chiama... Sono le figlie dei miei zii, sono le loro figlie, scusate, le loro figlie. Ok, ragazzi? Allora, abbiamo finito la lezione, però, ragazzi, ci sono domande sui possessivi, su quello che abbiamo fatto oggi? Ci sono domande? No? Tutto chiaro? Tutto bene? Allora, mercoledì, ragazzi, se volete, extra, se volete, portate una foto della vostra famiglia, una foto sul cellulare, una foto, e fatela vedere, o mettetela su group B, e poi la presentate. Questa è la mia famiglia, mia mamma, mio papà, mia sorella. Ok, ragazzi? Sì, va bene? Ed è su group B, e poi noi guardiamo e presentate. Vieni! Ci sono un link o video per mercoledì? No, per mercoledì c'è solo la grammatica, non video, non video. Per mercoledì, grazie, buona giornata, buona lombina, ragazzi, ciao, 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 ciao.